Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è il lavoro non ha mai spaventato Millie Carlucci. Tanto meno lavorare alla preparazione di una sua creatura come il dancing show Ballando con le stelle. Anno dopo anno la sua impronta è divenuta sempre più marcata e la prossima sarà l'edizione numero 17. Proprio per questo però lei sa bene che occorre fare in fretta per non arrivare con il fiato corto quando si è ormai giunti alla vigilia della messa in onda. Scegliere i nuovi concorrenti e valutare eventuali sostituzioni tra giurati e maestri ballerini. I tanti fan del programma attendono nomi e qualcosa si è già saputo riguardo alcuni concorrenti VIP che si cimenteranno nel ballo. Altre novità sono in arrivo, ancora qualche giorno di pazienza ed il tabellone dei danzatori vedrà le sue caselle occupate a dovere da nomi importanti. Millie Carlucci e le conferme nella giuria, nei giorni scorsi si era parlato di possibili cambiamenti all'interno della storica giuria di Ballando con le stelle. Un nome su tutti era quello più indicato come possibile uscente, ovvero quello di Selvaggia Lucarelli. Possiamo assicurare che la giornalista blogger di Civitavecchia sarà regolarmente al suo posto, come lei stessa ha confermato in suo post sul suo profilo Instagram, in cui ha dichiarato che torno a Ballando con le stelle, ma solo per deliziarvi con una sequela di Lucca Acqua e Sapone. Pertanto la giuria si presenterà con la sua formazione tipo che vedrà accanto alla stessa Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Caroline Smith. Quindi viene a cadere definitivamente l'ipotesi Arisa, la vincitrice della scorsa edizione, che avrebbe dovuto sostituire proprio la giornalista nel ruolo di giurata. Ed intanto continuano vorticosamente a girare nomi di possibili concorrenti tra annunci e smentite di rito. Quali le novità, i ballerini VIP, entrate ed uscite, continuano intanto aggiungere conferme riguardo alcuni grandi personaggi del mondo dello spettacolo che si fronteggeranno a colpi di passi di danza nello splendido studio dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Il primo grande nome messo in cassaforte da Millie Carlucci è stato quello di Iva Zanicchi, ma si possono dare per sicuri protagonisti anche Marta Flavi, Nancy Brilli e Gabriel Garco. C'è da registrare anche un clamoroso addio. Quello di Roberta Bruzzone. Un addio a quanto è dato sapere non proprio sereno. La causa scatenante dell'improvvisa interruzione del rapporto con la criminologa di Finale Ligure, è stato il mancato accordo sul rinnovo contrattuale. Una separazione dolorosa per Millie Carlucci, che però ritroverà Alberto Matano e Rossella Erra, come ci informa FaceChat. I, de, rimaniamo in attesa di nuovi, clamorosi annunci, questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.